Massimo Faietti, lei ha iniziato tanti anni fa con una serigrafia, oggi invece lei è il più importante imprenditore italiano nel campo del merchandising musicale, ma come ha fatto a scalare una montagna così alta? Beh, si inizia come in tutte le cose, nel 1985, avevo poco più di 20 anni, ho iniziato l'attività di serigrafia all'interno del garage dove normalmente il mio babbo metteva la sua vettura, l'abbiamo assolutamente parcheggiata in strada, sì è successo così, e da lì un po' è iniziato tutto, abbiamo inciso i primi telai, abbiamo realizzato i primi adesivi, abbiamo cercato di vendere i primi prodotti e li vendevamo ai nostri amici perché si comincia così e poi da lì è nato tutto insomma. Lei oggi lavora con i più grandi nomi della musica italiana, ne cito alcuni, Piero Pelù, Giovanotti, Renato Zero, Ligabue, Zucchero, Baglioni e molti altri, sono artisti anche giù dal palco o è il palco che trasforma le persone? Beh, diciamo che è una commistione delle cose, il palco aiuta per essere inebrianti e per ammagliare i propri fan. Piero Pelù ad esempio è una persona, lo avete visto, molto eclettica, addirittura a Sanremo ha rubato la borsetta alla ragazza seduta in prima fila ed è una cosa che lui consegue, fa abitualmente anche nei suoi concerti, ai ragazzi della prima fila rubicchia qui e là le cose. A me personalmente sotto palco quando facciamo le riprese per i nostri social mi ha preso di mano il telefonino, ha fatto alcune riprese e poi l'ha lanciato bellamente alle prime file. Fortuna che sono piuttosto conosciuto dai fan di Piero e come la borsetta della signora è ritornata al legittimo proprietario. Meno male. All'inizio i concerti erano fatti solo di musica, poi è subentrato lo show. Ma che cosa si aspetta oggi un fruitore di un concerto che spesso e volentieri paga un biglietto anche molto salato per vedere il proprio Beniamino? Beh va da sé che le linee guida dall'anno scorso sono un po' tutte saltate perché citando una frase di Lorenzo è iniziata una nuova era con il suo Jova Beach Party al quale noi abbiamo partecipato lì si è generata la festa. Il pubblico che arriva per vedere lo spettacolo non si accontenta più di ascoltare le canzoni e di vederle interpretate magari con dei bagliori di luce, dei giochi di luce molto interessanti. Serve un'accoglienza, abbiamo capito che serve tanto più l'attesa è lunga, bisogna più intrattenere e interagire col pubblico. Di fatto lui iniziava sulla spiaggia, i concerti erano sulla spiaggia quindi la si poteva fare il bagno, si poteva fare le docce, c'era una serie di furgoncini street food dove servivano il cibo non quello classico di quelle occasioni ma un cibo comunque raffinato, possibile ovviamente. Noi eravamo quelle persone che davamo tutte le indicazioni, fornivamo le indicazioni per i pit dove la gente si doveva rivolgere e quindi era di fatto una grande festa. L'intrattenimento prima dello spettacolo è fondamentale quindi quella parte dovrà essere molto sviluppata credo. Sempre più artisti fanno concerti anche chi una volta non li faceva perché il core business di un artista non è più al giorno d'oggi vista la pirateria dilagante, lo scarico del file, la vendita del disco ma diventa il concerto. Il concerto la parte predominante degli introiti degli artisti è dovuta ai live come sapete purtroppo il solido venduto il cd o comunque l'album è venduto in una parte molto inferiore rispetto a quella che un tempo era diciamo così il core business dell'artista. Adesso l'artista si deve impegnare nel mostrarsi in pubblico, nell'eseguire i live e più live si fanno e più c'è un ritorno d'immagine. Con l'elettronico diciamo così lo scarico di Spotify c'è, devo dire una cosa innanzitutto che le nuove generazioni sono abituate ad avere la parte elettronica fruita in quel modo tipo Spotify o più le altre piattaforme, mentre invece che più datato come me, come noi, fa molta fatica a scaricare da lì e quindi per vedere il nostro beniamino e far sì che lui sappia che noi siamo affezionati dobbiamo andare ad un suo concerto sostanzialmente. Quando si parla di impresa escono sempre due concetti, ricerca e innovazione, nel suo settore che cosa vogliono dire? Beh nel nostro settore vogliono dire una cosa sola, noi di fatto siamo chiamati alla distribuzione del merchandising, alla produzione del merchandising, vale a dire i prodotti che acquisiscono l'icona del brand dell'artista, però così sarebbe un po' troppo diciamo riduttivo, abbiamo l'ambizione noi di Max Devil di fare marketing avanzato, cosa vuol dire? Vuol dire una cosa molto semplice per noi che la viviamo tutti i giorni ma in realtà è un po' più complessa, sostanzialmente quando le persone arrivano al concerto il primo barlume di produzione o di artista siamo noi, quando la gente parcheggia la macchina e arriva di fronte all'avenio, di fronte al palazzetto, di fronte allo stadio, di fronte alla spiaggia di Jova Beach, trova i nostri stand con tanto di bandiera, con tanto di pennacchio, con tutte le balaustre belle adornate, con i marchi del nostro artista di quel momento. Facciamo una forte persuasione sull'anticontraffazione e i nostri clienti soprattutto ci riconoscono, per il nostro brand, che è quello di Max Devil, per sì la caratteristica del prodotto di qualità, ma soprattutto perché il nostro prodotto è un prodotto assolutamente autorizzato e quindi non contraffatto. Lei ha viaggiato molto all'estero, sono ancora gli Stati Uniti il punto di riferimento per lo show o non è più necessario andare oltre l'oceano per cogliere i trend di innovazione da questo punto di vista? Beh, diciamo che gli Stati Uniti sono un po' la madre di tutto, vuoi per la lingua, che è esportata in tutto il mondo e quindi chi canta in quella lingua ha un vantaggio nei confronti di noi italiani strepitosi, anche se comunque abbiamo degli italiani come Ramazzotti, Zucchero, che sono ben noti in tutto il mondo. Viceversa il mercato americano, potendo usufruire di questa sua lingua e soprattutto del mercato che è il più grande del mondo, hanno dei budget dove gli spettacoli sono eccezionali, sono di riferimento per noi europei. E di conseguenza le fiere specifiche del merchandising, dove vengono presentati i nuovi prodotti, là sono quelli di riferimento. E noi di Max David siamo iscritti in tutte queste esposizioni per poter portare ai nostri clienti, utenti e amici artisti i nostri migliori prodotti. Morandi, Baglioni, Antonacci, Pausini, ma gli esempi sono tanti, ovvero artisti che formano, si direbbe in gergo tecnico, un'associazione temporanea di impresa per fare un concerto per essere più incisivi. Questa sarà la nuova tendenza? Beh, detto così, effettivamente 2 più 2 fa 4, quindi mettiamo assieme due artisti, raddoppiamo gli incassi dei botteghini e siamo felici tutti. In teoria. In teoria. La pratica è che siamo in un campo, diciamo così, creativo e di conseguenza emozionale. E non è sempre detto che fra i due sul palco scatti questa scintilla di emozionalità. Devo dire che in questi ultimi anni abbiamo trascorso con, anzi aggiungo, la tournée più esaltante è stata ultimamente quella di Capitani Coraggiosi, Claudio Baglioni e Gianni Morandi. Devo dire che quella è partita un po', diciamo così, ma neanche, normale, ma poi con l'andare del tempo, aggiungendo le date, abbiamo avuto la sensazione che non finissero mai, perché il passaparola delle ragazze, un po' adulte d'età come noi del resto, quando andavano a casa erano felici, sorridenti. Il nostro prodotto più venduto era il CD, il CD che credo che non sia più così tanto appedibile, però le persone che arrivavano lì ne compravano un paio, uno per loro, da mettere in borsetta, soprattutto le donne, le ragazze, e l'altro da portare a casa l'amica. Io credo che sia rimasto in borsa per tutto il tempo, non l'abbiano mai suonato quel CD. E credo anche che all'inizio di questa tournée, la cito volentieri perché ci ha lasciato proprio un buon ricordo, i fan delle due fazioni, perché c'erano quelli di Baglioni e c'erano quelli di Gianni. Quando si arrivava si dividevano tra di loro, perché era così. Ma poi al calar del sipario e allo scatto della prima nota, tutti cantavano le canzoni dell'una e dell'altra, perché le icone che cantavano erano la storia della musica italiana e di conseguenza per di fiato, per tre ore, è stata una tournée bellissima. Il binomio, artista l'uno e l'altro, due più due fa quattro, la vedo un po' dura. Il fruttore di un concerto che acquista una felpa, una t-shirt, un cappellino, bada solamente all'emozione che gli dà questo oggetto o ricerca anche una qualità? Beh, allora, noi abbiamo clienti differenti e a seconda dei clienti ai quali ci troviamo di fronte, ovviamente abbiamo un atteggiamento diverso. I fan acquistano, per esempio, tutti i giorni, ma il fan fan fa tutte le date, va dal suo datore di lavoro, il fan dice io da quel periodo a quel periodo mi devo prendere le ferie ad intermittenza e guarda caso le ferie corrispondono ai concerti dell'uno piuttosto che dell'altro. E questo fa sì che questo fan si faccia dieci concerti, dodici concerti e noi si instauri con lui un rapporto perché lo vediamo tutti i giorni arrivare alle nove del mattino aspettando che aprano i cancelli. E in questo frangente noi a lui vendiamo praticamente un prodotto a rotazione tutte le giornate e di conseguenza alla fine della tournée lui ne ha più di noi, sostanzialmente. Ma ce ne sono tanti di questi fan, di questo tipo? Ce ne sono tanti, ma non tantissimi. Oppure è una quantità che varia a secondo dell'artista. Renato Zero, ricordo i suoi sorcini, sono eternamente grati per quello che Renato Zero trasmette al suo pubblico, mentre invece ci sono altri artisti un po' più rock'n'roll dove le cose sono leggermente diverse. Però diciamo che il cliente nostro medio acquista il prodotto per certificare il fatto che io c'ero, sostanzialmente. La qualità, come dicevo prima, dei nostri prodotti è una qualità adeguata al prezzo che noi proponiamo che rimane sempre comunque un prezzo molto popolare per poter riuscire a contentare un po' tutte le tasche. Perché il discorso che facevo prima, il nostro è un'operazione di marketing, quindi più brand si vede e più vuol dire che l'artista è conclamato. Però diciamo sempre che Max Devil è sinonimo di qualità, ma soprattutto di prodotto non contraffatto, prodotto originale. Lei ha vissuto dall'interno tutti i concerti di Ligabue al Campovolo, ma da dove si parte per realizzare un concerto che raduna 150.000 persone? Beh, debbo dire che è semplicissimo. Ci si rifà al concerto prima. Il concerto prima del Campovolo del 2005, che è stato il primo di Luciano Ligabue, è stato quello degli U2 del 1997 e da lì si prendono gli spunti. Chi ha organizzato, noi eravamo lì nel 1997 con gli U2, ci si rifà alla grande adunata di Enrico Berlinguer per quando è stato fatto il Campovolo per il suo discorso in occasione della Festa dell'Unità. E quindi sostanzialmente per poter riuscire a fare Campovolo pronti via in un pratone 150.000 persone serve tanta esperienza. Servono 40 anni di esperienza cercando di farne tesoro, far sì che tutte le cose girino per bene. Ma la cosa importante è quella di essere solidali col territorio. Soltanto avere il supporto di tutto il territorio, questo tipo di manifestazioni così invasiva sul territorio stesso, Reggio Emilia, ne subisce un trauma ogni volta che questo succede. Ma noi riusciamo ad ottenere l'effetto contrario portando tanta gente, tanto reddito per tutte le imprese, ma riusciamo a coinvolgere l'associazionismo. E con questo associazionismo diamo la possibilità al territorio di partecipare ai nostri eventi e anche loro avere il loro momento di celebrità, di gloria e soprattutto di partecipazione. Il nostro territorio dei reggiani emiliani è molto conclamato. Il volontariato a Reggio Emilia è una parte molto importante. Da questo punto di vista non abbiamo niente da imparare da nessuno. Tra poche settimane lei inizierà a viaggiare con Piero Pelù, che partirà con la sua serie di concerti dopo il successo di Sanremo. Partecipare a Sanremo può dare una svolta a un cantante come in questo caso Piero Pelù? Piero Pelù è un artista a 360 gradi. Tra l'altro noi siamo partiti nel 1993 con lui Spirito Tour, tour italiana, 94 tour europea e da lì per noi è partito tutto. In quell'epoca i Litfiba erano la band di riferimento del rock and roll vero. Poi ad un certo punto nel 95 è arrivato Luciano Ligabue, ci ha chiesto di fare delle cose per noi e da lì in poi è scaturita questa nostra impresa del merchandising Max Devil per gli artisti. Per tornare a bomba su Piero, beh, debbo dire che lui è un personaggio, come vi dicevo all'inizio dell'intervista, molto esperto. 40 anni di carriera proprio quest'anno. Lo stanno celebrando con Sanremo in modo evidente. Presto partiremo in tour proprio perché la popolarità di questa trasmissione di Rai 2 e con tutto lo share che è stato conseguito tra Fiorello e Amadeus. Ritengo sia stata un bel trampolino, lo è sicuramente. Sicuramente uno degli avvenimenti, ne abbiamo parlato prima dell'estate 2019, è stato il Jova Beach Party. Lei è stato uno degli organizzatori di questi eventi che si sono svolti sulle spiagge, in montagna, quindi anche dal punto di vista logistico, non più gli stadi ma in mezzo alla natura. Ha segnato un solco Jova, cioè d'ora in avanti i concerti prenderanno questa direzione? Beh, diciamo che per noi è stata una scommessa che abbiamo vinto, ma ci ha messo veramente ai ferri corti, nel senso che abbiamo dovuto investire moltissimo sulle nostre risorse, abbiamo investito nella formazione del personale, abbiamo generato delle nuove procedure perché, per farti capire, eravamo a policoro a 40 gradi e al sole, abbiamo fatto un trasferimento per andare in montagna a Plan de Corones a 2000 metri d'altitudine dove ad un certo punto chi era sul palco, dalla nebbia, dalla nuvola che calò, non si vedevano più la gente e viceversa non vedeva più il palco e di conseguenza bisogna organizzare tutto, soprattutto per non farsi male, per non ammalarsi e quindi questa è una delle prerogative che ci ha messo veramente alla prova. Poi voglio ricordare che questa cosa di Jova Beach Party non era mai stata tentata con questa mole di pubblico, 600 mila paganti che ha calcato la sabbia di tutta Italia in posti dove non c'è cultura di questo spettacolo. Le amministrazioni locali, ad esempio, non erano pronte, non erano preparate ad accogliere questo volume di persone e non avevano l'esperienza, quindi i nostri sopralluoghi non si contano per quanti ne abbiamo fatti fra le telefonate con la Calabria piuttosto che con la Liguria, con Olbia. Ancora oggi abbiamo relazioni con queste persone perché ci siamo trovati molto bene, perché altrimenti non si sarebbe potuto fare questo tipo di attività. Che sia la linea guida del proseguo della storia dei concerti? Sì, beh, speriamo, speriamo, perché è stata un'esperienza che dovremmo ancora monetizzare proprio per gli investimenti che abbiamo prodotto. Qual è la spiaggia più bella dove è stato fatto il concerto di Giovanotti lo scorso anno? Beh, devo dire che ne abbiamo vissute diverse. Siamo partiti da Lignano, poi siamo passati sull'altro versante dell'Italia, siamo andati a Viareggio. A Viareggio è un buon ricordo perché per noi la logistica lì era stata più semplice, la spiaggia era il muraglione di Viareggio dove la Darsena è lì vicino, la spiaggia è molto ampia e lì abbiamo fatto delle buone cose. Poi da lì siamo scesi verso Castel Volturno e Castel Volturno è nel pieno centro della Terra dei Fuochi, quindi mi puoi immaginare con quale spirito, con quale animo siamo arrivati a Caserta, uscendo dall'autostrada, queste strade che sembravano di far west, questo posto che negli anni 60 era un posto di prima grandezza dal punto di vista della villeggiatura, era tutto abbandonato a se stesso ed era la dimora dei nuovi arrivati, degli immigrati che vivevano lungo questo stradone che costeggiava la spiaggia. Poi siamo arrivati noi con le nostre attrezzature, abbiamo messo su il nostro spettacolo e per incanto tutto funzionò perfettamente. Siamo in una terra di eccellenze musicali, Vasco Rossi, Zucchero, Ligabue, La Pausini, Nomadi, ne potremmo citare tanti. Una terra di eccellenze per quanto riguarda tutto quello che gira intorno ad un concerto. Siamo noi emiliani che siamo così o è una contingenza della storia aver creato tutte queste eccellenze? Ma la costellazione astrale, quelle cose che succedono, il perché non lo si capisce bene, ma in realtà credo che la nostra terra, lo abbiamo detto prima, sia il motore della nostra economia è dovuto al fatto che le persone che ci abitano sono abituate ad essere performanti. Il lavoro che ci contraddistingue come caparbietà credo che sia il valore aggiunto. E questo, presumo, penso, arrivi dalla festa dell'unità, per farvi capire, dove tutte le persone della nostra piccola comunità andavano a fare il proprio volontariato per far sì che la festa dell'unità, ma credetemi non tanto per quel tipo di partito, perché poi c'erano le feste dell'amicizia, c'erano le feste dell'avanti, dove di nascosto i fornitori delle sedie che usava il PC a quell'epoca venivano di nascosto portate a quelli della DC e quelle del PSI perché anche loro riuscissero a fare le loro feste e che la gente, a quell'epoca, sta parlando dei primi anni 60-70, si divertisse e avesse l'intrattenimento. E praticamente da lì poi tutto il tessuto di queste figure che prestavano gratuitamente il loro lavoro, di conseguenza ne assumevano le competenze. E il patrimonio che abbiamo trovato in questo escursus, l'ho visto, secondo me, ad esempio nelle radio libere che negli anni 70, forse 80, giù di lì, più 70 che 80, 76-77, nascevano in tutte le cittadine, in tutti i paeselli e non per niente poi Vasco e Lighebue sono nati da queste due situazioni. Esatto, proprio così. Faiati, lei mi sembra una persona molto rapida e decisa nel fare le cose. Che cosa chiede ai suoi dipendenti? Chiedo una cosa molto semplice. Chiedo di impegnarsi tutti i giorni, non tanto per l'azienda, ma per loro stessi. Perché impegnandosi, facendo tesoro di quello che viene fatto ogni giorno, credo che l'arricchimento personale porti un vantaggio a loro stessi. Quindi investire su di loro e cercare di fare tante cose differenti l'una dall'altra. La nostra società, la nostra azienda, Max Devil, ha proprio questa peculiarità. Facciamo tante cose, il nostro ramo d'azienda più popolare è quello del merchandising live, ma in realtà curiamo tanti altri settori. Abbiamo fatto proprio in questo studio Special One, una trasmissione televisiva dedicata ai talenti emergenti. Organizziamo feste aziendali per le aziende, produciamo articoli promozionali per le aziende e lavoriamo in diversi settori. Quindi non ci facciamo mancare nulla. Quindi chiedo ai nostri, ai miei dipendenti, ai miei collaboratori di fare tesoro di quello che fanno, perché ritengo che la globalizzazione ci stia portando ad un impoverimento delle nostre competenze. Perché le multinazionali, la globalizzazione chiede di avere una competenza molto stretta, in modo tale che così il know-how rimanga racchiuso in un limbo di conoscenza di pochi. Se oggi un giovane volesse diventare il nuovo Max Devil, che consigli si sente di dare? Beh, che venga a lavorare da noi. È successo in tanti casi. Tanti giovani arrivano da noi, c'è chi arriva, c'è chi parte. Però con tutte le persone che abbiamo avuto rapporti, credo, si instauri un rapporto di gratitudine. Perché il lavoro che facciamo, soprattutto sui concerti, tante volte comporta tante ore di lavoro. 10, 12, 14, 16 ore. Alcuni giorni facciamo il dritto con 24 ore. Un giorno alla volta ogni tanto, quando siamo in concerto. Però, in questo particolare, noi di fatto facciamo parte del concerto. Perché quando il concerto apre i cancelli, la gente entra, la gente ha il sorriso. Perché la gente che arriva, il pubblico che arriva, vuole divertirsi. E noi, di conseguenza, abbiamo il dovere di divertire loro. E questa è una gratificazione che noi percepiamo molto, molto forte. Noi facciamo parte dello spettacolo. E quando l'artista è ancora nei camerini, noi, al suo posto, teniamo il banco per fare animare la gente. Grazie. 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 Grazie.